ciao ragazzi bentornati allora nel video di oggi scopriamo come è stato creato vue.js e capiremo da che punto è partito evanew per creare appunto questo framework inizieremo guardando la prima ripo che è stata il primo commit veramente primo il secondo commit che sono stati creati e andiamo subito a guardare la ripo e scopriamo qual è la prima ricerca di oggi che evan ha scritto e la prima implementazione di vue.js allora ho scaricato già in locale una copia della ripo la ripo la troviamo sull'accounted github di vue.js e dobbiamo però tornare un po indietro nel tempo circa nove anni indietro nel tempo alla versione 0.6.0 quindi la troviamo sotto non sotto branches ma sotto tags e e possiamo scoprire quale è stato effettivamente il primo commit quindi il primo commit è stato fatto nel 2013 a luglio e inizia il setup quindi questo primo setup andiamo a dare un'occhiata alla storia di questo alla storia alla struttura delle cartelle in questo punto nel tempo quindi nove anni fa la struttura di vgs era molto semplice src questa cartella dove c'era appunto il codice sorgente la cartella test e poi una serie di file di configurazione quello che a noi effettivamente interessa è scoprire qual è il primo file o comunque il primo le prime riche di codice che evan ha scritto e io ritengo che siano appunto queste dentro la cartella test nella cartella test abbiamo un file test appunto js qui dentro troviamo var element uguale require element quindi qui sta importando qualcosa da qualche parte quindi sta cercando di importare probabilmente una classe che ha definito e che dovrà definire e poi utilizzando il testing framework mocha credo sia sia seguendo queste 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 righe di codice per capire appunto se il primo test darà un esito positivo un esito negativo quindi scopriamo che cos'è questo var element e torniamo dentro la cartella vgs che andiamo a guardare la cartella src e qui vediamo che c'è un file main.js e abbastanza vuoto c'è un module export 123 quindi qui dentro sta facendo un export di questo di questo di questo numero però praticamente qui dentro c'è veramente poca c'è veramente poca roba questo appunto è il setup iniziale del del progetto la parte più divertente più interessante credo sia effettivamente nel secondo commit rename andiamo a scoprire che cosa contiene e vediamo e cerchiamo di capire qual è stato effettivamente il primo step che ha fatto per creare questo premio quindi vediamo una cartella nuova la cartella di name la cartella explorations con un commit appunto rename ha eseguito probabilmente le prime operazioni per il framework dentro a questa cartella ci sono due file e penso che sia proprio questo il cartello il file principale get set revitis questo era il nome del progetto inizialmente creato da evan credo ma appunto il la sua intenzione fosse stata appunto di chiamarlo revitis quindi vediamo che appare il nostro primo div con id test in questo caso ad oggi conosciamo questo come div con id app o root a seconda della della documentazione degli strumenti utilizzate e poi qui abbiamo la prima sintassi con il doppio baffo la sintassi moustache quindi qui dentro c'è effettivamente la prima implementazione del framework più gs ho scaricato una copia in locale di questo codice di quest'intera ripo esattamente in questo punto nel tempo è effettivamente funziona in che senso abbiamo un file ho creato un file index dove ho copiato il contenuto di questa di questa cartella di questo file e l'ho eseguito tramite il server locale e praticamente questo è lo è effettivamente un nello scritto tramite la sintassi moustache quindi dentro questo file quindi ho copiato quello che c'era qui dentro e l'ho inserito dentro questo file index che poi l'ho avviato con il server locale ho eseguito serve meno s per eseguire il il server locale non sempre quindi adesso diamo un'occhiata e cerchiamo di capire come è stato effettivamente implementata questa soluzione come fa questa doppia parentesi graffa ad essere tradotta effettivamente in un in un test ok intanto analizziamo il nostro il nostro markup se guardate qui c'è dentro al div con id test abbiamo un paragrafo nel paragrafo appare questo spam con all'interno scritto e lo che appunto il contenuto di questo che vediamo a schermo quindi il tutto penso che inizi proprio da questa variabile band in mark questa variabile praticamente e utilizzerà l'altra tributo per poi recuperarlo e trasformare il contenuto di questo data tributo nel nel nostro spam quindi questa andiamo a collassare un attimo il codice quindi abbiamo una funzione element che ricordatevi siamo nel 2013 nel 2013 e 6 ancora non esisteva quindi le classi si definiscono utilizzando function e il nome della della classe scritto in lettere mai con la prima lettera maiuscola e poi nelle parentesi tonde eventuali parametri che questo con function constructor deve accettare quindi non possiamo utilizzare la la parola la parola chiave classe con il constructor all'interno non al momento quindi questa è la nostra prima classe che avrà chiamato element e qui vedete qui sotto var up uguale new element questo è il corrispettivo di quello che noi oggi facciamo con new view poi qui ha un ha passato un una stringa che sarebbe il primo parametro che il function constructor sta accettando ovvero un id e noi sappiamo che questo id fa riferimento all'elemento radice test e poi praticamente abbiamo un oggetto questo sarebbe il corrispettivo del nostro option subject dove evan qui dentro sta specificando direttamente dati quindi non abbiamo il non abbiamo ancora accesso al data object ma semplicemente esiste soltanto un oggetto principale all'interno del quale vengono scritte delle proprietà che poi vengono richiamate all'interno del del template con questa sintassi doppia parentesi graffa quindi in qualche modo lui sta prendendo sta prendendo il contenuto di div con i di test e sta sostituendo queste doppie parentesi graffe e le sta trasformando e alla fine quindi la trasformate in questo spam che noi vediamo per appunto renderizzare il contenuto quindi se abbiamo questa classe all'interno ci sono un po di cose che vengono vengono fatte innanzitutto che cosa vediamo vediamo il dis quindi qui il dis viene salvato all'interno di self poi viene creata una un'altra propietà quindi vengono create una serie di variabili distanza viene creata la prima variabile che il self e poi c'è la virgola quindi un'altra variabile questa viene creata che è appunto la nostra proprietà l quella che noi oggi conosciamo come la proprietà l per assegnare l'identificativo il nodo identificativo il nodo radice dell'istanza più appunto a questo a questa proprietà dell'oggetto dell'option quindi qui abbiamo il dis facciamo un attimo un console log di dis ho aggiunto questo console log ne ho aggiunti alcuni a vari step per capire appunto come come ha pensato quello che ha fatto inizialmente per creare questo questo premio che devo dire che nonostante sia un codice del 2013 non è non è stato semplicissimo capire quello che sta accadendo quindi riga 18 ho fatto un console log vediamo un attimo se questo mi fa giusto penso che si allora ho fatto un console log alla riga 18 che sarebbe questa ok e stiamo ottenendo un elemento quindi questo dis effettivamente fa riferimento alla classe come ci aspettavamo quindi il dis fa riferimento alla classe all'interno della quale si trova quindi fa riferimento all'istanza vediamo che l'istanza ovviamente in questo punto già contiene già il data object con dei valori all'interno e la proprietà l che effettivamente contiene questo nostro identificativo quindi qui è stata creata una variabile d'appoggio per il dis e poi una variabile l che sfrutta questa variabile d'appoggio quindi effettivamente sfrutta il dis e fa dis.l quindi crea una proprietà l all'interno dell'istanza e poi dell'istanza via la possiamo chiamare oppure la possiamo chiamare dell'istanza element visto che per il momento si chiama element e poi quindi sta creando questa proprietà l questa variabile l quindi è definita con var crea una variabile l che poi utilizzerà in appoggio alla quale assegna il valore di self.l quindi in questo punto sta creando una proprietà e l all'interno dell'oggetto sfruttando però self e non direttamente dis e poi quindi a queste due a questa proprietà e a questa variabile sta assegnando il contenuto di document appunto getElementById id id che è appunto la proprietà che questo function constructor sta accettando e che viene passata in fase di inizializzazione della classe ovvero qui ok quindi sta effettivamente selezionando tramite getElementById il nostro div principale che diventerà l'elemento radice di un'applicazione più poi praticamente se facciamo il console.log di self.l a questo punto copriamo che self.l appunto conterrà dove sei? riferciamo la pagina allora conterrà questo nodo della DOM quindi questo div con id test che all'interno appunto contiene tutte le varie proprietà che solitamente troviamo nei nodi della DOM quindi un attimo che decommento questo decommento quest'altro e andiamo a guardare quindi dobbiamo scoprire come fa a funzionare queste doppie parentesi graffe e se continuiamo ad andare avanti vediamo che qui sta definendo due variabili due variabili globali la globale bindings e la globale data e contestualmente sta creando per la globale data anche una proprietà data all'interno dell'oggetto quindi dell'istanza element alla quale assegna un oggetto vuoto stessa cosa per bindings e qui c'erano due commenti internal copy ed external copy external interface quindi penso che questo sia ovviamente la parte interna che noi troviamo all'interno dell'oggetto data mentre questo è lo stesso oggetto però che viene definito all'interno dell'oggetto window poi qui sotto effettivamente accade quello che stiamo cercando ovvero il modo in cui Evan è riuscito a far funzionare questa sintassi quindi qui sta creando un'altra globale che ha chiamato content alla quale sta assegnando il valore di el ovviamente l'elemento radice quindi il div con edit test e il suo contenuto interno html quindi tramite inner html e poi utilizza punto replace e al punto replace che è un metodo che possiamo applicare appunto alle stringhe che esisteva già nel 2013 sta utilizzando quindi per il search value quindi come primo parametro abbiamo bisogno per il replace di un valore da ricercare in questo caso sta utilizzando una regular expression che se viene appunto se nel testo quindi nel contenuto dell'elemento radice viene trovata il match poi verrà praticamente gestito dal secondo parametro ovvero da questo mark token questa è una funzione che accetta un match ed una variabile tra un secondo scopriamo che fanno intanto guardiamo un attimo questa regular expression che cosa effettivamente fa quindi la regular expression inizia da questo punto andiamo sul sito regx101 e andiamo a copiare questa regular expression e vediamo se effettivamente riesce a trovare un match quando noi qui dentro scriviamo qualcosa tra le tutte le parentesi grafiche ok vedete che qui c'è un match un match è stato trovato e quindi la regular expression che cosa fa? effettivamente sta verificando se viene trovato il carattere quindi questo carattere la parentesi grafa e lo verifica due volte quindi la prima volta è questa e la seconda volta è questa poi all'interno delle parentesi tonde c'è un group capturing e all'interno di questo gruppo quindi viene catturato qualsiasi test quindi questo è un raggruppamento che ci permette di trovare il qualsiasi tipo di testo che viene scritto effettivamente all'interno di queste parentesi ed estrapolarlo quindi il group capturing utilizza il punto che effettivamente fa un match di qualsiasi caratteri eccetto un terminatore di una riga e poi l'asterisco che trova un riscontro tra i precedenti caratteri tra uno zero e un infinito quindi un'infinita quantità di volte quindi dopodiché viene fatta la stessa cosa soltanto al contrario utilizzando la chiusura delle parentesi graffe quindi effettivamente questo sta creando due match il primo match è l'intera stringa che viene passata e poi il group match quindi il gruppo che viene catturato ovvero il contenuto che c'è all'interno di queste doppie parentesi quindi grazie a questa selezione invoca poi una closure una funzione di callback quindi questa funzione viene definita più avanti e eccola qui quindi qui se facciamo un console.log di match quindi questo metodo effettivamente di base praticamente riceverà due parametri grazie a questo replace quindi questo metodo replace ci dà la possibilità di passare due parametri alla nostra funzione di callback il primo parametro è il match quindi in questo caso il riscontro che viene trovato quindi l'intero riscontro e poi la variabile quindi quello che contiene il nostro group il nostro gruppo quindi questo group capturing quindi il testo che viene catturato dentro a questo gruppo quelle parentesi dote quindi effettivamente match contiene l'intera sintassi doppie parentesi graffe e msg e poi variable che in questo nostro caso contiene appunto soltanto il testo msg che deve appunto dovrà appunto essere trasformato in uno span come vediamo qui sotto quindi qui sotto poi fa utilizza la globale binding e sfrutta variable quindi msg in questo caso nell'oggetto binding che ha creato qui sopra sta aggiungendo una proprietà utilizzando la variabile binding la variabile variable appunto che contiene appunto in questo caso un message quindi sta effettivamente aggiungendo msg all'oggetto bindings che è praticamente imposta come un oggetto vuoto poi dopodiché se facciamo il console log di questo return statement qui sotto vediamo che otteniamo uno span che utilizza binding mark ovvero questo data attribute qui sopra e gli assegna il valore appunto di variable quindi praticamente sta trasformando questa sintassi qui in uno span che ha un attributo con una variabile che gli viene passata della variabile appunto msg se andiamo ad analizzare la console quindi andiamo a vedere la console vedremo che console.log è tutto quello che viene scritto qui dentro quindi span poi binding mark più uguale quindi sta aggiungendo a binding mark ovvero data element binding sta assegnando un valore che è il valore appunto di variable e poi chiude lo span vediamo il risultato che ottiene in questo modo puliamo la console riflessiamo la pagina e allora eccolo qui quindi abbiamo questo span che in questo caso è diventato il corrispettivo della nostra sintassi con il doppio parentesi graff quindi span data element binding uguale a msg poi in qualche altro punto del codice che analizzeremo in un secondo momento probabilmente in un secondo video se avete trovato questo video interessante logicamente ne faremo un altro e scopriremo come fa a diventare poi quello span un dato vero e proprio che viene renderizzato qui a scherzo se vi è piaciuto il video lasciate un like mettete un commento per farmi sapere se vi piacciono questo tipo di video e ci vediamo alla prossima ciao